Alla mattina salta dal letto, fa un bel bagnetto, corre in cucina, saluta Armando, esce correndo, sveglia le viole. Gioca pallone con il leone, all'ipopotamo dice buongiorno, sorride a tutti quelli che hai intorno, a tanti amici, 303, perché la pimpa, ecco perché, perché la pimpa, ecco perché. Siamo in vacanza ragazzi, la 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 la, la 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 la, la 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 la, guarda quanta sabbia che ho raccolto. Brava, scava un bel buco adesso. Profondo? Si, profondissimo. Ehi, ho trovato l'acqua. Vieni a vedere, ho trovato l'acqua. Svegliati, c'è l'acqua là nel buco. Mamma mia, com'è buio qua giù. Non devi avere paura, è buio perché qui siamo negli abissi. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo in fondo al mare. Ho perso la paletta. Te la trovo io. Grazie, posso farti un piacere in cambio. Potresti aiutare mio nonno. Abita più su, dove l'acqua è molto più chiara. Ci vado subito. Ciao. Sei tu il nonno dei pesci? Sì. Cosa posso fare per aiutarti? Mi servirebbe una casetta perché, vedi, io nuoto. Poi mi stanco e mi fermo. E la corrente mi porta via. Ci penso io. Qui c'è il legno. Ci vorrebbe una sega. Eccomi qua. Che cosa devo fare? Mi chiamo Alfredo. Taglia dei pezzi così, Alfredo. E adesso ci vorrebbe... Son qua. Mi chiamo Rocco. Così va bene. Adesso porta e finestre. Forza Alfredo. Ecco, è pronta. Puoi entrare. E' bellissima. Però non c'è il bagno. Non facciamo mai il bagno, noi pesci. Siamo saluto. Già. Adesso vado dall'Armando sulla spiaggia. E' tardi. Prendi questa. Così farai più presto. Grazie. E buon riposo. Piove. No, dormiglione. Lo sai che i pesci sono fortunati? Perché? Perché non devono mai fare il bagno. Già, però non bevono il latte con la cioccolata. Hai ragione stavolta. E quella cos'è? Questa me l'ha regalata il nonno dei pesci. Provala. Sirenone. Perché la pippa è coperci. No, dormiglione. Grazie a tutti.